ma ogni parte della città è stata ripulita almeno due volte posso credere che qualcuno l'abbia montato andiamo me ne frego un cazzo spero che ti arrendi te non possiamo fermarci ascoltami non possiamo se ci fermiamo ci trovo sotto cosa cosa ma va la si droga c'è qualcosa che va via va la ma da puntargli le armi mi riscappano non c'è qualcosa c'è qualcuno di maggi maggiore è dentro no è giusto ho visto ho visto ho visto ho fatto bambino ho visto ho visto ho visto ho visto maggiore ho visto ho visto Dove sei? Questo dovrebbe essere dove abbiamo fatto la prima missione Ah che carino Sì adesso lo vedo il radar E mi ha dato probabilità così C'è uno C'è tanta altra roba Il costetto di qua è dove sei? Sì? Perché tu... sì Attivando le tue cose dai anche la possibilità agli altri di attivare delle altre cose Ah io ho questa Credi questa Eccoli cattivissi C'è qualcuno per Eccoli la No no vieta, no vieta con la bomba Via Eccolo 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 Perfetto Eccolo Eccolo Dove? Ho stacato tutto Eccolo Allora eccolo 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 Ascolta, ma hai inviato il video? Cioè ti è arrivato? Sto guardando in giro se c'è qualcuno Spero che ve la stiate cavando bene nel vostro quartiere o nella zona di contenimento o qualunque sia il nome che hanno scelto questa settimana L'unica possibilità che abbiamo di uscirne vivi è aiutarci a vicenda Siamo new yorkesi e nella nostra natura O dimenticatelo, perché verremo messi alla prova Ma che troppo a parte qua? E non intendo cibo o messi bene Parlo di roba che non usano nemmeno Ho appena provato Dai vieni fuori casinista Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Così tipo? Andiamo di qua No no Ah che patumara che sei qua? No no Non cazzo No no Ho avanzato come granato ooooh stai ah stai 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 Ma se sta male? Guarda come cammino! Spuntala da qualche altra parte, per favore. Senza di te. Saremo spacciati. Inizia a preoccuparti. Ti tocca andare in missione. Aspetta che la selezione... Agente, c'è una richiesta di aiuto da uno dei distretti di polizia che abbiamo usato come punto di distribuzione. Sono sotto attacco dei ribelli. Pare che vogliano scambiare gli ostaggi con della droga. Devi entrare, eliminare la minaccia al distretto e liberare gli eventuali ostaggi. Dei calci agli scatoloni... Ti supplico, ti prego! Ha detto ti supplico? Non serve sparare qui. Se è uno scherzo, non fa ridere. Sto sparando alla radio. Così non suona più. Preparati che non mi sa da facile. Per ora è niente. Però... Livello del nemico 3... Ok, 4 che arrivano altri qua. Ok. Ok. Ok, vado io allora. Centrale di Brooklyn, qui al comando della divisione. Abbiamo inviato un agente all'84esimo, ma tutti gli ingressi sono bloccati. Divisione, questa è la notizia migliore del mese. Provate il garage sul retro. Sentite l'agente? Entra da lì, valvi a prendere. Ecco qua che me la giro sopra i pezionetti. Ecco, guardando fuori. Non mi fa andare. Arrivo. Un attimo! Non mi aspettano! Aspetta, mi arrivo e non sono là io. Sì, qui. È ancora nostro, capione! Guarda proprio, ricaricati! Vedete quattro forza? E poi ti dà un mirino che la puoi... Andate a staccheggiare un altro posto! Guarda bella. Stai, stai giù che ti ricarichi più in penino la vista di quanto va davanti. Attenzione, rilevati altri ostili in arrivo. Non abbiamo! Arrivo in avanti! Non indirene il ruolo! Non indirene il ruolo! Non indirene il ruolo! Mi hanno ucciso! Dove sei? Devi venire a mettere una mano! Mi vedi in rosso? Attenzione! Agente della divisione alleato a terra! No, mollo io piuttosto! Vabbè... Devi venirmi a salvare il culo! Devi venirmi a salvare il culo se mi allontano! Ah, sei morto anche te! Eh, aspetta allora che... No, mollo io! Perché quando uno dei due è giù... L'altro deve andarlo ad aiutare, capito? Centrale di Brooklyn, qui al comando della divisione! Abbiamo inviato un agente all'ottantaquattresimo, ma tutti gli ingressi sono bloccati! Divisione? Questa è la notizia migliore del mese! Provate il garage sul retro! Sentito agente? Entra da lì! Vagli a prendere! Bel colpo! Addosso ai bastardi! Non la viva! Non la viva! È morto! È morto! Forza! Grazie a tutti! Ci pensiamo noi. Attenzione, altri nemici in arrivo. Ci stanno stacchando! No! No! Occhi aperti! Non smettere! No! 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 Ahia! Mi hanno scaccato! Torna indietro, torna indietro, dammi una mano! Torna indietro, torna indietro! Vieni indietro, vieni indietro, vai via da lì! Qua, qua, qua! Girati, girati, girati! Vieni verso l'uscita! Guarda! Tirami su, tirami su! Non c'è, premi un tasto! Ok, perfetto! Oh! Riccate! Sono disorganizzati! Oh! No! Ah! Che salvi! No! 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 ma c'è per l'arte colpo perfetto si sono andato tranquillo posti lì in arrivo ancora occhio boom non ho preso 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 che vengo a vedere 3 minuti sembra quasi cattivo dove cazzo stiamo andando non ho preso devo salire ah non guarda la porta da qui non da qua non si sa non ho preso ma la luce non ho preso non ho preso lì ah è un medikit pieno però scusa un medikit pieno te lo puoi prendere se non ne hai lo vedi lo zainetto te? lo vedi lo zainetto? no lo vedi lo vedi? ah aprila la x ah ok allora niente si 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 vuol dire che ce l'hai piena torno qua all'inizio a vedere come si può meglio tu che io due sto libero se non mi devo arrabbicare come auto se non c'è lì operazione al gateway è per salvare la rete eh adesso andiamo dentro prima fammi vedere se riesco non andare giù ah se no parte la missione e ti ritrovi da sotto oh stavo cercando di andare di là ma non capisco voglio andare di là perchè vedo che ci sono delle casse che non riesco a trovare ahhh ah ahhh a volte sono sotto ma non penso guarda il tue proprio lo xuai Sì, sì Ok, sì Intanto io cerco ancora in giro Vedete cosa è finito lungo Tu avrai voglia di combattere Ma io per niente In particelle Quistando l'ONU Taglierai le gambe al battaglio E' a porto Dovevo applicare Anche lampadina Tutto tempo sprecato Non c'è nessun bisogno Ok Attenzione, emaci in arrivo Non vogliamo Dovevate provocarsi, ora morirei Eh, troppi Ecco Ecco Mardo, mardo, vai Ammazzaremo tutti questi stronzi No, adesso non c'è finito Guardiamo in giro se c'è qualcosa Qua dentro non c'è niente A parte che nel radar vengono fuori di colore viola Guardi nel radar che è in alto a sinistra Ecco, vediamo che c'è qualcosa qua E infatti Ho trovato una flashbang Sei fuori E così che dai poco alla gente Vediamo il second Oh sì, c'è col fog Cos'è? Un medikit Non ne faccio niente Te la vita è come se sei a posto anche te Ok Allora andiamo 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 Lui No, è una piazza Aspetta Perfetto Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Qua ho Che carino Che carino L'arena Che carino C'è l'emoroid No, c'è qualcosa qua di rifornimenti C'è dei rifornimenti Eh, torni in rio, sei troppo a fretta Qua, qua Sì, è di lì I rifornimenti Io vado a vedere intanto qui c'è altro Ehi, grazie per averti aiutato Vieni, vieni che ho liberato la stanza Grazie Stanno scappando Sì, c'è qualcosa qui Eh, nell'altra stanza Vediamo Ancora medichi Oh figliere Mi vai Ma che steppo in giro Ma che steppo in giro Non serve che te la punti contro Andiamo su Dico sempre una preghiera per morirlo assiderato Questa è che Sì, c'è un giro Questa è che sta Diamo cercare prima Questa è che Questa è che Strano, qu'è qu'è? Che di meri? Mabri miei C'è un giro Che caffè? Che di meri Che è il giro E non lo riuscille Che cosa trovarà? Che cosa ce l'ha? Che cosa sta? Che cosa cosa sta? Che cosa sta? Che cosa sta? Che cosa sta? un attimo che qua c'è qualcosa ma lo sento che c'è qualcosa attenzione rilevati e ostile eh ma si è già andato tutta io sono ancora qui eh ma arrivo arrivo eccovo occhio fermo eccovo merda ho sbagliato occhio se lo faccio detonare via da lì via da lì torna indietro torna indietro adesso ci vorrebbe un bel drink ma ce l'hai proprio lì qui? è attaccato lì occhio che c'è nessuno attenzione altri ostili in arrivo via 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 non ho fatto saltare bastardi che è z Excellence to Le Ter dedication via 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 via! non ho fatto saltare ti sono fatti non ho fatto saltare bastardi attenzione, altri nemici in arrivo avan staat pop guarda come hai fatto ai 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 uccidilo uccidilo no guarda come sono messo aspetta in attesa di rianimazione 24 21 ah niente molla anche te ah io non posso rientrare eccolo eccolo tira a slegnare BAM ahahahанные Considlla che ti ho tirato cosa fai te con i piedi BAMle i denti mi stavamo accoppiando che cazzo è guarda che brutta tv guarda che brutta tv no eccolo Attenzione, rilevati ostili nelle vicinanze. Attenzione, rilevati altri ostili in arrivo. Continua così e sono felici? Attenzione, rilevati altri ostili in arrivo. oh ma l'affa no 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 troppo parelli la larma carica morto ah 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 oh ah 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 ok 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 ascolta ah se dai i kit medici non usarli perchè tanto da scelta guardiamo guardiamo quello che abbiamo ucciso prima non importa quanti sono ho trovato una fondina per pistola una fondina te con che corassa ce l'hai corassa vai su corassa al posto ultimo non convertito quanto fa di danno ah oh 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 ok 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 l'ultima, l'ultima che è in basso a destra è la fondina per la pistola quando sei pronto andiamo porca troia, mi sono tirato un coso in testa da solo un estintore, mi sono tirato in testa dove dove dove, arrivo ah si, sei in personalizzazione del personaggio si ma dopo dopo, aspetto, lo facciamo dopo perchè tanto non c'è un cazzo di niente forse ho qualcosa io beh ma io l'avevo riscattata però la divisa avevo riscattato la divisa io vabbè, fa lo stesso carica l'arma, andiamo lì ma stiamo scrivendo un chat che non ho ben capito hai trovato qualcosa? arrivo 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 io vedo un kit medico si 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 è tutta la missione iniziale arrivo lo dà a me oh i rifornimenti c'è anche un babbo natale scusa ho fatto esplodere il babbo natale ole dico sempre una pelle sinistra spiega sinistra ma ce l'hai le bombe almeno no con le frecce e poi la lanci come se stessi sparando sotto il joystick è quello che muove il personaggio spiega sinistra spiega sinistra vedi che il mio si carica tipo con una bomba in mano ma no le frecce no l'analogico ok eh ok selezionare una con la X o con la A guardati te oppure spingi spingi dentro perché quante ah ma tu tieni spinto no devi spingere solo una volta ecco stai in là e non fare spodere bombe qua dentro ahahah qual è l'altra e allora tieni spinto e posizionati ok allora andiamo su così la smolli la su dico sempre una preghiera per te eh eh come spari prendi la flashbang in mano tu spari normalmente guarda tac guarda hai visto niente l'ho fatta esplodere ahahah andiamo su ok ok andavamo tutti da Ables per lo shopping natalizio e intendo proprio tutti sono bastardi eh attenzione rilevati ostili nelle vicinanze e non fare niente fuori tu si dà tira gli altri ci hanno abbandonato vai avmbre vai via 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 guarda negli embody Niente rivolto, che saranno morti! Niente rivolto, che saranno morti! Sparate! Paledizione! Continuano a caricare e basta! Non importa quanti sono! Aia! 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 Aspetta che mi ricarico la vista! Non andare avanti, aspetta che mi ricarico! Mi ricarico anche te che sei basso! Ok, quando hai finito andiamo avanti! Però, stiamo sempre indietro! Cazzo è esploso! Casimista che bello! Attenzione! Rilevati altri ostili in arrivo! Ah si! Forza! Non si! Two! Uno non si! Posto qua! Usi! Vieni qua indietro, vieni qua indietro Stai fermo, via 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 via, sto sparando, porca troia, sto stronzo, vieni in copertura, vieni in copertura, dove sei, stai lì, dai vai sono messo così anch'io, vaffanculo Ah niente, possiamo morire, muori, muori pure, che tanto guarda, possiamo morire tranquilli, ti ho detto che sono bastardi su sto livello qua Quando sei pronto Fai come l'altra volta Arrivo un attimo E infatti è quello il fatto che volevo fare io Arrivo, arrivo Perchè, perchè, perchè Ho chiesto di corozzi di time square, vi ho tirato un po' so non riusciano mai a sentare Eh, perchè le bombe le devi trovare in giro Ok Un attimo che vengo avanti, io appena mi rinforzo Check Andiamo Nei ancora di bombe Ok Attenzione, rilevati ostili nelle vicinanze Ma porca troia Ok Heee Non ricaricando perché Ehm Non ricaricando perché Sto passiamo Ah via, via, via Chi è stacca morto? vai ok ricarichiamoci la vita poi andiamo avanti no ricaricati aspetta aspetta allora io non sono carico e io ho una frammentazione adesso aspetta un attimo stai fermo lì che vado a vedere cos'è quella roba verde lì attenzione altri ostili in arrivo 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 falciamoli tutti è il suo superstite è una granata vieni 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 con gli eccezzi c'è un muro avanti fate un bel respiro ragazzi attenti stai fermo lì puoi morire ok via da lì via da lì via da lì che fa tutto il detonare oh oh occhio occhio via da lì parate gli dritto in faccia non fatteli scappare non fatteli scappare ma no non fatteli scappare oh no che è eh guardate stai giu stai giu stai giu fuoco 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 un colpo perfetto fuoco stai giù curati serietti vai arrivo teni un altro è morto è morto grazie che l'aiuto ho trovato una granata aspetta che ho visto che c'è uno benissimo no no forse è quello che c'era è quello che c'era che cazzo facciamo adesso prova a venire qua un attimo non mi ricordo se potevamo fare delle azioni tipo da squadra ma non penso io potevo lanciarti ma no era in splintercell vabbè ho lo stesso aspetta beh che se vuoi ti passo della roba eh la molo per terra è sulla... in teoria no perché non mi ricordo più ah condividi oggetto vedi? si c'è cazzo tu la... la... la mascherina a che livello ce l'hai? eccola al centro 8 8 io ho il 7 dunque la posso o vendere o smantellare no tanto a te non te ne fai un cazzo eh che c'è il livello 3 vabbè si ma anch'io ho i guanti e... le ginocchiere marci vabbè ok allora non riesco a darmi niente per ora perché tanto c'è il livello più alto c'è andiamo incerta di qualche fraimento di coltori non è niente sono sfinito sembra che il battaglione stia ammassando più terra ma mette-mi come l'altra volta non è guarda qui c'è ah po'è c'è eh quando ho finito questo in teoria la missione è finita la missione andiamo a farli dietro il battaglione vuole mettere le mani sul consolato russo eh beh non riuscirò mai a scandarmi mi sa che dobbiamo tornare a scala io perchè? dove hai trovato? eh dov'era? ah qua dal pizio no mettila mettila ma no io alla fine ho un livello anche io 10 di mascherina adesso no 9 beh beh ma fa lo stesso si si puoi tenerla per venta se no sei pronto eh vai su dalla scala allora da dove siamo arrivati lo vedi subito io ti aspetto pastilla ah no proprio no vero? vero? si e poi c'è sempre dietro proprio lì eh vabbè vedete che sono difficili i primi livelli te li fanno potremmo impiegare dopo man mano che vai avanti è ancora di più eh 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 si non farmi saltare a me come sul solito e guardati DA guardati DA guardati DA guardati DA guardati dietro dietro di ti prossimo a dietro... oh cazzo c'è quello lì... era ora allora prima di scendere mando un messaggio è come un po' sto lagando un po' questo giro ecco la vivo si si eh ho visto anche io ottimo lavoro agente brooklyn è di nuovo stabile Manhattan Manhattan è un'altra storia ma devi vederla con i tuoi occhi ho ancora qualche agente con me ci incontriamo con l'agente Lau e sorvoliamo la zona insieme qui comandante Chang chiudo ho un'arma nuova eh mi ha dato MP4 pulizia M4 pulizia me adesso ho messo un gherino ECOG hai visto che ho messo il mirino al fucile ho messo il mirino al fucile oh 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 ah c'è la freccia di fianco quando te l'hai equipaggiato eh allora vedi eh allora vedi eh sì che se ne frega basta che abbia il danno l'importante l'importante è che abbia un danno alto l'importante è che abbia un danno alto si scende si scende manatta aspetta perché si sa che abbiamo fatto una bancata abbastanza se era qualcosa lì su te non l'abbiamo controllato ah no ah no è lì fuori guardiamo se riusciamo a passare vedo un po' eh già no no almeno che non si apra questo cancello ma non penso proprio no no da lì si va a Manhattan vedi andiamo a Manhattan forse no aspetta che proviamo a fare il giro che andiamo a prendere quello là dai non te resisti potremmo provare eh stai guardando quello giallo ah te c'hai la cassa qua è vero io l'ho già aperto è qua dietro questa è un tentativo magari dall'altra parte non è così male non è così male probabilmente ti ha dato un Udine no ah bello eh vendila dopo prenderò tutto quello che posso prenderò tutto quello che posso prenderò tutto quello che posso ho il fucile alla pompa ma sei a livello 4? in alto a destra sei a livello 3 ancora? allora quando sei a livello 4 puoi aggiungere la terza arma basta fare un giro ah c'è una riga sotto il livello io ce l'ho all'inizio ah la vedi dove c'è scritto seleziona missione vedi che c'è una riga arancio non entra nell'inventario guarda così con il personaggio libero allora dovresti avere il radar alla sinistra in alto seleziona missione e poi c'è una riga arancio e allora esatto ecco allora quando l'hai completata passa a livello 4 comunque non ci fa fare dunque andiamo subito a mananza andiamo subito a mananza o per di qua si si ma prendiamo prendiamo la strada superiore e vediamo cosa c'è no ma tanto forse salute ti esploro un po' eh no un attimo sto facendo io faccio tutti i giri per vedere bravo arrivo eh uuuuh no no vieni tesco che c'è una cassa qua mp5 a4 a rapica 172 di danno dove sono qua su ti vengo a prendere stai lì salute cagami si ok ahahah trevi si allena bravo eh eh dai vieni su muoviti lì ahahahahah sta lì ad allenarsi lui eccola qua eh vabbè perché siamo ancora ma no fa senza cazzo però fa 174 di danno precisione marza no dai no dai tengo si ma stavo anche pensando da solo perché stavo dicendo fa 174 di danno però non ha precisione una gittata è corta velocità di ricarica è alta la stabilità è alta però no dai no dai allora aspetta che importo la missione ok finiamo ho già fatto ok eh si si sono all'inizio no no io ti prego io non sento niente questa città sta andando a puntare questa città sta andando a puntare è un buco è quello là dove sono spuntato dalla missione all'inizio se hai il zonguino l'altro ma come cazzo hai messo questo sta male niente che cosa ti soo guarda come corre guarda come corre guarda 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 guardo guarda 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 ацион stai capace è stato malo? no, no, è con i chassettitos parati, che prego malissimo sta guardando quasi c'era qualcosa si, si, adesso stiamo guardando sempre la roba fama non so qual cosa però ho trovato una doppietta una doppietta e la metto la metto al posto del fucile a pompa come la aspetta, aspetta, voglio provarla si stiamo in merita ok qui mi seguono secondo che andiamo a manatta via verso manatta oh 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 vedo un po' di ho l'ho da un sacco di tempo ma ma se lo vuoi è tua sono andato malatta sono dietro di te e arrivo benvenuti a Malata che bello che brutto posto è quello che non riuscivamo a prendere sì sì ho detto no non me ne faccio niente oh vidione e che bell'uomo esatto sì sì ho Toyota sicuramente laggiù c'è un bar dietro quel palazzo i migliori cocktail di Manhattan se ci riprendiamo la città ti offro da bere anzi quando la riprenderemo ci siamo gli altri dovrebbero essere su questo elicottero sta succedendo non mi pare vero andiamo è che quelle eroniche mi fai anche se è tutta marta la pittà cazzo la gamba e e anche non puoi le raggi no 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 quindi Sta succedendo, non mi pare vero. Ottimo lavoro. Eccolo. No, no. Facciamolo! Facciamolo. I migliori whisky sour di tutta Manhattan. Resisti! Ho bisogno di te! Scusa, volevo dire quando la... Ecco, ho fatto anche... Attivato. Sì. Anche a me probabilmente... Ehi! Non mollare! Resisti! Ho bisogno di te! Ascolta, andrà tutto bene. Direi che stai decisamente meglio di me. Merda! Quell'esplosione ha ucciso il comandante. Abbiamo un lavoro da fare e lo faremo. È solo che... Atterreremo tra un minuto! Dovreste iniziare a vedere la città alla mia destra! Dovreste iniziare a vedere, poverina che tu un occhio... Oltretutto con la letta. Ho scoperto qualcosa di più sulla prima ondata! O sono morti o sono scomparsi! Quindi tocca a noi! Per questo dobbiamo rimanere concentrati da subito! JTF 6-8 a torre! Vediamo Latson! Sì! Due agenti della divisione a bordo! L'esplosione era la loro entrata! Ok, autorizzazione a terraggio, JTF 6-8! Solitamente ci vuole un po' di tempo per fidarsi di qualcuno! Noi di tempo non ne abbiamo! Scommetto su di te! Devo farlo! Spero di non sbagliarmi! Benvenuti a Hudson Pierce! Non so cosa abbiate intenzione di fare qui! Al di là di questo cancello c'è solo una maledetta zona di guerra! Quindi chi comanda qui? Il capitano Benitez! E' a capo dell'evacuazione al Madison Square Garden! Ma abbiamo perso i contatti con la sua squadra! Se non lo sentiamo entro domani! Ce ne andiamo! Nessuno si ritira! Ci riprendiamo la città! E' la parella! Si, ci riprendiamo la navi! Si, ci riprendiamo la farra del basket! Si! Si lo sentiamo! a a a a a a Sto aspettando che mi tirano sui Andiamo, andiamo, al concetto di chi? Sì, vado via! Non posso vedere ma non riesco a andare a cercare quello Che stai al giro in d'altra con me? Ti sei schiantato su un cavallo! Ahahahah Porca troia piena di pazzume, state vostre! Aiuto! Mi stanno stuprando i cavalli! Ehi, devi passare di qui! Ti ho visto! Ti ho visto! Lì! Ce la stai facendo! Ho sentito che sta andando tutto a puttane anche lì! Assalti ai rifornimenti e cose così! Eh, non lo so io! Dove è la mia casetta degli atleti? Lo sai? Ho capito che dobbiamo metterci sta roba addosso ma sinceramente mi sembra di essere un bambolotto! Non riesco a fare niente! Mi stesso impotente! Non lo so, c'è un altro bobo natale qua! Puoi andare, ok? In effetti non ti invidio! Visto che devi tornare in quel casino! Io me ne vado al fine da ora! Da dove l'hai capito? Cos'è? 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 Sì! Ho tutto quello che ti serve per portare a casa la paese! Dai, 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 dai! La legge marziale è attiva! Per la vostra sicurezza rimanete in casa! Le evacuazioni sono sospese e non ho avordine! Sono pronta a combattere! Devo salvare il personale medico al garden, punto! Sì! Ripeto! Tutti i paramedici delle cliniche da AAF devono usare una tuta protettiva di livello M Odio! Un tiratore risposto è approvato dal NIOSH Obbligatoria decontaminazione e dolcia prima di uscire dalla banca I paramedici delle altre cliniche possono...